Ciao amici del Tube e bentornati sul canale DJI Fly Up aggiornamento 1.1.6 Grandi novità Grandi grandi novità non tanto per il Mavic Mini ma per il Mavic Air 2 con questa nuova versione dell'applicazione Si sta sempre migliorando, tassello su tassello sta ampliando le sue funzioni, le sue regolazioni Si spera un giorno arrivare a livello della DJI Go 4, io penso che la DJI ormai abbia puntato su questa applicazione Tant'è vero che il DJI Mavic Air 2 funziona con questa, per fortuna in italiano Gli manca ancora un qualcosina per arrivare alla DJI Go 4, gli mancano per esempio le regolazioni nitidezza, saturazione, contrasto Ma sono sicuro che arriverà, andiamo a vedere oggi comunque le novità di questa versione Farò il volo con il mio DJI Mavic Air 2 ma vedremo comunque la miglioria che andiamo a trovare sul DJI Mavic Mini Aspettate sempre che il drone rilevi la posizione Home Point È la posizione alla quale tornerà quando si fa la procedura RTH, Return to Home Per avere la posizione Home deve aver agganciato un buon numero di satelliti, 7-8 Magari salite di 2 metri d'altezza e attendete sempre, mi raccomando, che prenda la posizione La posizione è stata presa Eccomi qui inquadrato Bene, preferisco questa posizione Quello che accomuna il Mavic Mini e il Mavic Air 2 con questa nuova versione dell'applicazione È il simbolo della batteria Vedete che non c'è più il simbolo che c'era prima Abbiamo un cerchio di colore verde nella parte della carica che ci indica la carica Se noi andiamo a cliccarci sopra ci si aprono tre voci I minuti che restano fino all'attivazione della procedura di RTH I minuti che ci restano un poco di più fino all'atterraggio forzato Avviene quando la batteria è al 10% per motivi di sicurezza Voi non potete più controllare il vostro drone e atterrerà Per questo motivo quando avete il messaggio batteria scarica Tornate sempre verso di voi La terza voce è il volo complessivo Fino all'usaurimento totale della batteria Quindi tutta la parte restante della carica Questa è la miglioria dell'applicazione che troviamo sia per il Mavic Air 2 Ma anche per il DJI Mavic Mini Ma quali sono le altre migliorie importantissime che troviamo per quanto riguarda il DJI Mavic Air 2? Andiamo nelle impostazioni, i tre pallini che troviamo in alto a destra Andiamo in comandi E troviamo impostazioni di stabilizzazione avanzate Adesso troviamo per tutte e tre le modalità di velocità del nostro Mavic Air Vi ricordo che c'è la normale La Sport Mode che arriva quasi a 70 km orari E la Tripod Mode che è più cinematografica Arriva a 5 km orari Vi ricordo che per passare da una modalità all'altra C'è un tasto fisico Lo troviamo qui nel nostro radiocomando Vi dicevo che per tutte e tre queste modalità possiamo andare a scegliere la velocità di movimento Del Gimbal e anche la sensibilità del Gimbal Cosa vuol dire? Adesso siamo nella modalità normale Abbiamo un valore impostato di fabbrica di 15 km Se io prendo tutta la rotella e la porto su o giù Questa è la velocità Adesso ho lasciato Vedete che quando lascio Ora C'è ancora un piccolo movimento Se entriamo nelle impostazioni E mettiamo una velocità molto elevata Sempre in velocità normale Quindi 100 km Andiamo a vedere Avete visto? Il movimento è velocissimo Adesso mettiamo anche una fluidità del beccheggio Quindi il movimento del Gimbal Scusate se non l'ho precisato Sull'asse verticale Mettiamo 30 km che è il valore massimo Ora lascio Vedete che il Gimbal va avanti ancora un pochino Per fare un bloccaggio più soft Scendo Lascio Vedete che ha una frenata più fluida Non si blocca di colpo Torniamo Impostiamo invece un valore basso tipo 8 E anche una velocità che ci permette di vedere meglio Questa frenata più graduale Saliamo Se io lascio Si blocca quasi automaticamente Mettiamo proprio 0 a questo punto Su Lascio Scendo Lascio Questo è meno cinematografico Quindi scegliete un valore Rispetto alla vostra sensibilità Lasciate sempre un po' di fluidità Per far fermare il Gimbal in maniera graduale Questo vi serve per le riprese Non mettete neanche però Valori troppo elevati Secondo me quelli di fabbrica sono corretti Vi dicevo non mettete valori troppo elevati Perché rischiate Come in questo caso Di salire E quando vi bloccate Perché volete filmare l'orizzonte Il Gimbal salga troppo E a quel punto lì non avete la ripresa corretta Vi ricordo che sotto trovate sempre il ripristina E potete ripristinare le voci di fabbrica Lo potete fare per tutti e tre Le modalità di velocità che ha il nostro Mavic Air Ripeto Tripod Normal E sport mode Oltre al movimento sull'asse verticale Quindi il beccheggio Lo possiamo fare Ed è importantissimo Anche sull'asse orizzontale L'imbardata Questo è il valore di fabbrica Come vedete In normal È molto molto veloce Io sto mettendo la leva Tutta a destra O tutta a sinistra Proviamo ad andare a impostare In imbardata Sempre In velocità normale Una velocità molto bassa Mettiamo 31 Metto la leva Tutta a sinistra Metto la leva Tutta a destra Come vedete La velocità è molto più bassa Impostiamo ancora Un valore più basso 20 Leva tutta a sinistra E andiamo tutto a destra Con la leva di sinistra Io utilizzo la modalità 2 Molto ma molto più cinematografico Se andiamo a mettere Una fluidità di imbardata A 100 Andiamo a sinistra 3 2 1 Lascio Vedete che c'è un piccolo movimento Se sempre con un valore Di 29 Mettiamo una fluidità Di imbardata Di 1 Vado a destra 3 2 1 Lascio Vado a sinistra 3 2 1 Lascio In realtà qui vedo Molto Molta poca differenza Io consiglio comunque Di lasciare Per quanto riguarda la norma I valori di fabbrica Magari Lavorare sempre in tripod Per le riprese cinematografiche E andare a regolare In base alla nostra sensibilità I valori Questa cosa che hanno aggiunto È davvero molto importante L'aveva la DJI GO 4 Qui Come vedete È davvero semplice Andare a scegliere Il valore Che noi preferiamo Una volta impostato Possiamo salvarci i valori Iscriverceli anche Da qualche parte In caso Per qualche motivo A seguito di aggiornamenti Si perdano queste impostazioni Seguitemi su Facebook Perché vi dirò Quali sono Le impostazioni Che vado io Ad utilizzare Col DJI Mavic Air 2 Questo video si conclude qui Vi invito a iscrivervi Sul canale A seguirmi anche Sui miei social Facebook Appunto Instagram E Telegram Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 ciao